nella prima parte di questa puntata di uomini e donne ci pensano gemma galgani e silvio a tenere alta l'attenzione dei telespettatori i due dopo la registrazione precedente si sono visti con le telecamere per poi incontrarsi da soli a casa di lui a novara maria de filippi fa sapere che prima di questo incontro tanto atteso il cavaliere si è depilato e su questo nascono diverse battute soprattutto da parte di tina cipollari gianni sperti vuole conoscere i dettagli e la conduttrice fa sapere che questi particolari preparativi hanno messo angoscia in gemma so che a lei questi dettagli sui preparativi danno ansia afferma maria la galgani inizialmente ha pensato di non andare a questo incontro chiudendo le loro conversazioni telefoniche senza alcun entusiasmo notando questo atteggiamento della dama silvio ha tentato di rassicurarla a questo punto gemma ha preso il treno e ha raggiunto novara queen mary preferisce che a raccontare il seguito sia la galgani anticipando che quest'ultima ha dormito a casa di silvio ma che non sono andati oltre infatti gemma ha dormito sul divano letto e il cavaliere nel suo letto dopo questo incontro la galgani ha cercato di mettersi in contatto con lui senza ottenere il risultato sperato nello studio di ue di gemma racconta di aver incontrato silvio alla stazione dove non riuscivano a trovarsi poiché si trovavano su due binari diversi dopo essersi trovati sono andati a cena insieme una cena bellissima ha spiegato la dama torinese ho visto quel lato romantico in silvio che cercavo continua gemma detto ciò svela che l'atteggiamento romantico del cavaliere l'ha portata a decidere di continuare la serata a casa di lui ma la galgani non può non ricordare quanto accaduto nelle precedenti puntate quando anche maria è intervenuta in sua difesa